Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Un truffatore è stato beccato in autostrada ed è stato arrestato il servizio di Chiara Sadotti. E' stato intercettato in A1 con ancora il bottino, frutto di due truffe distinte ad altrettanti anziani consumate in provincia di Modena, monili d'oro e contanti per oltre 2000 euro. A fermare il truffatore, un cittadino italiano di 50 anni lungo l'autostrada del Sole, i poliziotti della postrada di Battifolle. Anche questa volta le frodi avevano seguito il solito canovaccio, una telefonata e poi la minaccia che i figli sarebbero andati in galera se non fosse stata pagata la somma di denaro di una persona che di lì a poco si sarebbe presentata a casa. Adesso il 50enne è stato denunciato, sono stati sequestrati preziosi per un valore economico di oltre 30.000 euro che saranno restituiti ai digittimi proprietari. Le indagini invece proseguiranno volta l'identificazione degli altri componenti della banda. Durante le ricerche dell'auto utilizzata dai truffatori, la postrada, sempre in A1, ha intercettato anche un Audi, ritenendo possibile che all'interno ci fossero i malviventi ricercati. Alla guida in realtà un italiano appena trentenne che riguarda le truffe non c'entrava nulla, ma che in compenso aveva alterato le targhe di immatricolazione del veicolo, modificando la prima lettera F in una E con un pennarello indelebile, uno stratagemma per poter commettere tutte le infrazioni che voleva. Certo che nessuno lo avrebbe mai identificato, ma gli è andata male, le targhe sono state sequestrate e lui è stato denunciato. E una pattuglia della Polstrada di Battifolle in servizio in A1 ha intercettato una potente Audi R3 Sportback, ritenendo possibile che si trattasse di malviventi, si è messa al suo inseguimento, riuscendo non senza difficoltà a fermarla dopo alcuni chilometri. Alla guida un italiano appena trentenne che, seppur non ricercato per reati di furto o truffa, aveva alterato le targhe di immatricolazione del veicolo, modificando la prima lettera con un pennarello nero indelebile. In questa maniera sperava di poter correre a piacimento senza incappare in stazioni. Certo che il veicolo non sarebbe stato identificato. Gli è andata male però perché le targhe sono state sequestrate e lui è stato denunciato. E visto che l'auto è rimasta senza targhe, ha dovuto trovare un passaggio per tornarsene a casa. E adesso torniamo ad Arezzo, in zona campo di Marte, emergenza, degrado a lanciarlo, è la CGL. Liti violente, spaccio, assunzione di stupefacenti, scippi e blitz delle forze dell'ordine. Questa è la realtà che vivono a campo di Marte i dipendenti dell'Asla che lavorano nel Dipartimento della Prevenzione del Centro Vaccinale. Ad intervenire Gian Maria Ciai, segretario provinciale della Funzione Pubblica CGL. Una situazione prosegue non nuova e che ovviamente era conosciuta dall'Asla Toscana Sud-Est quando decise di trasferire in questa zona calda di Arezzo questi servizi. L'amministrazione dell'azienda ricorda Ciai si era impegnata a garantire la sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici di quella sede e conseguentemente all'utenza attraverso un servizio di vigilanza e installazione di un campanello. Misure che si sono rilevate insufficienti e che stanno alimentando le preoccupazioni di chi opera in questi servizi. Il personale si sente lasciato solo a presidiare un ambiente urbano e sociale degradato in cui sembrano sospese le più elementari regole di convivenza civile. A Ciai poi contesta la replica dell'azienda alle richieste sindacali. Sono inaccettabili le affermazioni che l'Asla non sia chiamata a rispondere di quanto accade fuori dall'edificio. Non intendiamo attendere l'esito di questo surreale esperimento sociale fatto a spese di lavoratori e lavoratrici del servizio sanitario pubblico. E come funzione pubblica chiediamo che i protocolli sottoscritti dal direttore generale con la prefettura per contrastare le aggressioni al personale sanitario siano aggiornati, potenziati, allargati ad altri soggetti come il comune ma soprattutto con clude a Ciai attuati. Ancora un incidente intorno alle 13 di oggi all'incrocio tra Viale, Fratelli Rosselli e la strada statale 73 coinvolte due autovetture. L'impatto è stato violento ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per gli automobilisti. Due persone, marito e moglie, sono comunque state portate al pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Sul posto la polizia municipale e un'ambulanza della Croce Bianca. Adesso parliamo di politica perché salta il numero legale in Consiglio Comunale per votare la rotatoria di Via Fiorentina. Il servizio. Il costo totale sale ad oltre 10 milioni ma al momento del voto è saltato il numero legale. La rotatoria di Via Fiorentina è così tornata al centro del Consiglio Comunale di Arezzo. L'opera pubblica, che costerà 2.340.000 euro in più, si candida ad essere la più cara della storia retina. È infatti necessaria una nuova ondata di risorse e conseguentemente una variazione di bilancio già presentata in commissione. Tutto però si è concluso con un nulla di fatto perché non bastava il numero di consiglieri comunali di maggioranza presenti in aula. Tante le interrogazioni dei consiglieri di minoranza, da Alessandro Caneschi del Partito Democratico che ha annunciato una manifestazione di protesta a Egiziano Andreani, consigliere fino a pochi mesi fa della Lega e adesso nel gruppo misto, proprio il nodo di Via Fiorentina lo avrebbe spinto ad uscire dai gruppi di maggioranza. Sempre dai banchi dell'opposizione l'invito di Marco Donati a non votarla chiedendo di ripensare l'intero intervento. Cause della nuova stangata per l'opera pubblica, Secondo l'assessore Marco Sacchetti, responsabile degli interventi strategici, sono vari aspetti. Le nuove risorse sono infatti prodromiche dell'approvazione di una perizia di variante supplettiva. Il progetto era nato nel 2015, quindi secondo Sacchetti all'epoca non furono messi a fuoco i sottoservizi. Parallelamente è poi subentrata la necessità dello spostamento del collettore fognario. Tutte queste opere hanno generato un adeguamento del quadro economico di circa 3 milioni. La struttura del progetto, precisa a Sacchetti, non è stata nel frattempo cambiata, semmai migliorata. E adesso parliamo di Giostra. Oggi è stata presentata la lancia d'oro ed è dedicata a Giorgio Vasari. Vediamo il servizio. Non poteva che essere dedicata a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla morte la lancia d'oro della 145esima edizione della Giostra del Saracino in programma sabato 22 giugno. La lancia, nata dalla collaborazione tra l'artista Giovanni Frangi e il maestro intagliatore Francesco Conti, è ispirata a due dipinti dell'artista. Sono due dipinti che sono uno agli uffizi e uno a Palazzo Vecchio, nei quali si vede in quello degli uffizi c'è l'immacolata concezione. Quindi c'è un diavolo a un certo punto con la coda che si avviluppa intorno all'albero che è l'albero del peccato originale. E quella coda che si avviluppa, l'iconografia del serpente, è quella che vediamo ricoperta in oro alle nostre spalle. L'altro, secondo me, è ancora più significativo, per lo meno per la storia di questa mostra vasariana del 30 di ottobre, perché già il disegno preparatorio che ha il Metropolitan, dei primi frutti della terra donati a Saturno, ricorda per certi versi l'avviluppo del serpente, ma ancora di più lo fa l'affresco che ha Palazzo Vecchio, dove si vede veramente bene questo serpente che gira intorno a un albero che è l'albero del male. E con ai piedi il Saturno e il diavolo. Quindi è un'iconografia tipicamente vasariana, molto bella, che l'artista ha voluto riprendere, ha riportato nella lancia e ovviamente l'ha poi dipinta d'oro, il nostro metallo preferito ad Arezzo. E quindi è una lancia, secondo me, bellissima. La novità più attesa di questa edizione è senza dubbio il ritorno della consegna dell'ambito trofeo sotto la tribuna. Verrà in un palchetto apposito che verrà costruito nei prossimi giorni, che affiancherà quello dove normalmente risiede il cameraman che riprende la giostra e che è separato, ci sono circa due metri di distanza, dalla tribuna A per impedire che dalla tribuna A si acceda al luogo fisico dove il sindaco consegna la lancia al rettore del quartiere vincitore. L'altra novità, per certi versi, ma in realtà non avrebbe dovuto essere una novità, ma la consideriamo tale, è che da parte del prefetto, da parte mia e condiviso con i rettori, c'è la richiesta a chi è in piazza, sia che si occupi un posto a sedere, sia che stia nei posti in piedi, non si muova fino al termine dell'esecuzione dell'Inno di Arezzo. Settimana di campi estivi ispirati al mondo della giostra, alla ASD Scuderia Pan di Molinelli. Da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno i bambini, oltre che salire sui poni, si cimenteranno contro un mini buratto con piccole lance, sempre accompagnati da istruttori fise che terranno per mano i bambini, rendendo l'esperienza accessibile anche a chi non è mai salito a cavallo. Verranno costruiti abiti e cappelli simili a quelli della giostra e fatti altri giochi ispirati al Saracino. L'orario sarà dalle 8 alle 13 oppure fino alle 14.30. Per informazioni e prenotazioni, telefonare a Francesca al 334 1545 975. E dalla giostra del Saracino passiamo al Palio dei Rioni di Castiglione Fiorentino. Il Palio dei Rioni rappresenta uno dei punti più alti delle nostre tradizioni, tra sacro e profano, che si fondono insieme, creando una manifestazione che coinvolge tutta la popolazione nelle varie iniziative. Una di queste si è svolta proprio questa mattina con la visita alle stalle, che ha visto la partecipazione di tanti bambini e ragazzi. La visita alle stalle dei Rioni è un'iniziativa che permette ai giovani castiglionesi di immergersi nel fascino dei rituali di questa manifestazione. Possono cogliere la passione, la dedizione e l'impegno con cui i rionali preparano nei minimi dettagli la giornata dedicata alla Madonna delle Grazie del Rivaio. Questa iniziativa che ha preso il via negli anni passati, oltre ad essere il veicolo per la promozione turistica di Castiglione Fiorentino, diventa anche un'occasione per avvicinare le nuove generazioni alla vita rionale che può svolgere anche un ruolo sociale e di aggregazione. La mattina è cominciata con la visita alla stalla del Rione Cassero, successivamente a quella di Porta Romana e infine a quella di Porta Fiorentina. La visita alle stalle è terminata con una colazione presso i giardini pubblici. E adesso spostiamoci a Civitella dove si è concluso il simposio di scultura monumentale legato all'eccidio di Civitella. Vediamo com'è andata. Quando c'è una strage così, si fa una ferita nella comunità, come se fosse uno spirito. Quando si cerca di guarire questa ferita, è una cosa che si deve guarire anche in comunità. Per quello ogni persona e tutte le persone anche. E poi è un portale che si deve attraversare per lasciare indietro questo dolore. Sono arrivati da tutto il mondo e dallo scorso 25 maggio hanno lavorato, scarpelli e moda alla mano, allo Stadio Comunale per il Simposio Internazionale di Scultura monumentale nell'ambito dell'ottantesimo anniversario dell'eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Non solo a ricordare e commemorare la morte di questi cidi, ma anche di dare una visione per un mondo migliore attraverso tutta un'evocazione che ognuno ha interpretato in modo diverso, perché sono tra l'altro tre continenti che sono abbastanza distanti da noi. La mia opera ha a vero con la dualità, con una società contemporanea molto comoda referente a una società che sta in costante conflitto di guerra e di malestà. Sono tutti progetti che si legano prevalentemente alla natura, cioè il rapporto della rinascita, il rapporto dell'inseminazione, e anche ad esempio la mia, che sono due spirali, sono il DNA, cioè quello di cambiare all'umanità questo modo di pensare e di vivere attraverso sempre l'esistenza di distruggere e poi ricrescere senza rendersi conto di quello del danno che si crea. Adesso le 11 opere, 8 sculture in pietra e 3 in metallo di circa 3 metri di altezza sul tema della memoria, sono concluse e sono state consegnate alla cittadinanza, saranno installate nelle principali piazze delle frazioni del territorio comunale per ricordare le vittime dell'Eccidio. Perché la memoria, quello che è successo a Civitella, non è un qualcosa che riguarda strettamente il paese, la frazione Civitella ma riguarda tutto il nostro comune. Intanto il borgo si prepara alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dell'Eccidio, uno dei massacri più efferati tra Civitella, Corni e San Pancrazio, 244 le vittime civili. Le 29 inaugureremo inoltre Civitella, oltre alle celebrazioni classiche, ci sarà anche quella che è l'inaugurazione di una mostra fotografica internazionale dell'artista Luigi Toscano, artista dell'UNESCO per la pace del 2020, una mostra che si chiama Contro l'oblio, che per la prima volta sarà esposta in Italia. Andiamo adesso in Valdarno. I bersaglieri di Montevarche e di tutta Italia tagliano il traguardo dei 100 anni di storia. era il 1924 quando nacque l'Associazione Nazionale Bersaglieri e lo stesso avvenne anche a Montevarchi. Un anniversario che sarà festeggiato il 22 e il 23 giugno con un grande raduno in città e con il gemellaggio tra le regioni di Toscana, Marche e Veneto. Tra le iniziative in calendario è in programma che è stato presentato dal sindaco Silvia Chiassai-Martini e dal presidente regionale ANB Alfio Coppi alla presenza del presidente ANB di Montevarchi Francesco Biondini. Un grande evento per celebrare i 100 anni dell'Associazione dei Bersaglieri sia a livello nazionale che per la sezione montevarchina, nata anch'essa nel 1924, afferma il sindaco. Un compleanno importante organizzato dal presidente Coppi che ha voluto portare nella nostra città il gemellaggio delle regioni Toscana e Marche e Veneto con l'esibizione sabato 22 giugno in piazza Varchi alle 21 delle tre fanfare, mentre domenica i fanti piumati saranno protagonisti lungo via Roma alle 11 per la celebre marcia in corsa che da sempre affascina la popolazione. I bersaglieri sono un simbolo del paese impegnati ancora nel presente e nel futuro in attività di protezione civile e di volontariato, chiosa il sindaco. Quindi un modello da seguire per il servizio reso alla comunità. E adesso torniamo ad Arezzo per presentarvi un nuovo progetto imprenditoriale. Ieri taglio del nastro per il nuovo locale bambù in quello che tutti ricordano come il notti d'estate. Vediamo. Si barca questa soglia e si entra in un altro mondo. L'obiettivo era quello, è stato un progetto lungo, difficoltoso, viene da lontano, da un'idea che avevamo con Arianna di portare un po' di tropici per far evadere un po' le persone di questa città che è una città senza mare e quindi portargli un po' l'idea del mare qua in città. E speriamo di esserci riusciti, l'impegno c'è stato, quindi in bocca al lupo a noi e vi accogliamo tutti. E benvenuti a voi! Questo è un esperimento anche che ha una valenza sociale, perché questo è un luogo che da tanto troppo tempo era fermo, al quale però gli aretini sono molto affezionati. L'obiettivo sì, era quello anche di ridare vita ad un locale che anche personalmente noi ce lo ricordiamo nella nostra gioventù. Ci faceva un po' dispiacere vedere sempre questo ambiente così abbandonato, trasandato e quando un anno fa ci hanno proposto di avviare questa avventura imprenditoriale, di rimetterlo in sesso e dargli una nuova vita, ci siamo lanciati. Qual è stata la filosofia con la quale avete letteralmente rivoluzionato questo locale? Un edificio, se vogliamo, iconico, piuttosto riconoscibile, non era semplice come approccio progettuale, quindi il progetto ha voluto mantenerne una certa porzione, quindi la tenda come elemento più riconoscibile, ma allo stesso tempo inventare un posto completamente nuovo che creasse degli spazi che prima non esistevano. Naturalmente spazi dedicati a un ambiente di questo tipo, quindi un locale, un ristorante principalmente, con spazi anche godibili in tutto l'arco dell'anno, soprattutto esterni, utilizzando una serie di materiali che fossero anche adeguati sia al contesto dove ci siamo inseriti, che è quello periurbano della prima campagna della città di Arezzo, ma anche che evocassero un po' un ambiente altrove, quindi venire qui un po' e dimenticarsi un po' le fatiche quotidiane, entrare in una dimensione più di relax, quasi più vacanziera. Non hai bisogno di prendere un aereo, basta soltanto venire al bambù e ti sentirai in vacanza, con la nostra atmosfera, il nostro cibo, la nostra musica, ti sentirai in vacanza. In chiusura una notizia di sport, due settimane fa ha vinto il titolo toscano nel campionato CSI sui mille metri e salto in lungo adesso per Aurora Banchetti, una nuova sfida. La giovane promessa categoria 2012 ha un appuntamento importante nella giornata di domani a Pietrasanta dove si terrà la fase finale della Coppa Toscana. Lei si presenta ai nastri di partenza come atleta individuale grazie alla quinta prestazione in tutta la Toscana ottenuta sulla distanza dei 600 metri con un tempo di un minuto e 50 secondi e due decimi. Domani la gara sarà ancora più impegnativa perché si troverà a gareggiare con i pari età sui mille metri. E prima di chiudere vi ricordo che questa sera alle 21 andrà in onda la trasmissione La Piazza, una trasmissione politica condotta da Carlo Gabellini. In studio saranno presenti i principali segretari dei partiti per commentare le recenti elezioni europee e amministrative. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.